Lanterna a tutti ragazzi, qui Slam Dark Day Nerd di Shonan e oggi siamo di nuovo con gli Onululeviatans. Come vedete siamo la prima testa di serie a Ovest e siamo contro i Nuggets. Siccome mi sentivo abbastanza superiore ho deciso di simulare le prime tre partite della serie, eventualmente andando a finire quella che era la terza. Infatti vinciamo gara 1, vinciamo gara 2 e vediamo un po' se vinciamo anche gara 3. Adesso dovrei riuscire a simulare perché è tutto indifferita, quindi sono stato lento. Siamo avanti 3 a 0 in questo momento e quindi quel carissimo del mio buon proprietario, anche se in realtà la squadra è nata da una mia idea, però lui è il proprietario, dice fagli uno sweep e io lo farò uno sweep. Comunque siamo in casa dei Nuggets in questo momento e avevo una notizia da darvi. In questi due giorni, che probabilmente lo so che è stupido farlo uscire adesso, però in questi due o tre giorni ultimi della vita di NBA 2K17, ho fatto uscire il roster con cui ho iniziato, quindi il draft di NBA 2K15 con i contratti fatti giusti, che si chiama, se lo volete cercare in questi due giorni, NBA 2015 Accurate, con Accurate, scritto tutto maiuscolo, con lo spazio tra NBA, spazio 2015, spazio Accurate, e poi invece la classe draft che ho resa pubblica pure quella è NBA 2K15 con 2016 ratings. E' così. Comunque dovreste riuscire a cercarlo, nel caso il nome utente, se volete cercare per nome utente, è Elip341. Capito, no? Comunque, partiamo un po' a parlare di questa partita, perché ho fatto un discorsetto comunque abbastanza lungo, parlando di questi roster. Siamo avanti al momento 9-2, che diventa subito 11-2, anche perché Carl Anthony Townsend non ha potenzialmente un difensore su di lui ben preciso, in questo caso addirittura era Ty Lawson, che in teoria in questi Denver Nuggets c'è Kenneth Farid, ma Kenneth Farid non può certamente bloccare quel giocatore lì. Intanto tripla da lontanissimo, in realtà neanche senza Shot Clock Cheese così, era proprio una tripla distinto di Gary Harris. Gary Harris ne starei pensando, nel caso l'anno prossimo, di portarlo in una delle squadre che vorrei avere l'anno prossimo, perché secondo me non è... anzi, è un giocatore che sta migliorando molto, è un buon giocatore, è un buon prospetto, anche se ormai non è più prospetto, quindi secondo me potrebbe starci. Comunque al momento siamo sul 3-17, va dentro Goran Dragic, cosa che non mi vedete fare molto spesso con i miei playmaker, perché non sono uno tanto che fa penetrare i playmaker, lo vedo più da stare fuori a tirare e fare assist, ma è solo una piccola nota a margine mia. C'è anche Gallinari nei Nuggets ancora, quindi segna pure questa tripla, c'è lo scontro degli italiani perché c'è Datome contro Gallinari, Datome che al momento è marcato da Olive Jefferson, che comunque è un buon giocatore nella classe d'up che ho creato, e Capitan Datome, perché moralmente per me è il Capitano, Capitan Datome con l'end one, vediamo se segnerà questo end one, attenzione, vediamo il tiro, e la palla entra, perfetto, comunque direi che è abbastanza bene, abbiamo fatto un inizio abbastanza scompiettante, avevano ancora addirittura Yusuf Norkic, palla di Datome per André Drammond, che va a schiacciare così, in contropiede, mamma mia, André Drammond con che cattiveria, cioè realmente queste animazioni schiacciate a cockback si chiamano, sono una roba, una cattiveria inaudita, va dentro, dopo palla robata bellissima di Goran Dragic, va a segnare, attenzione, siamo sul 27-17 momentaneamente, Goran Dragic è veramente un playmaker che mi sta dando molte soddisfazioni, non tanto da tiratore, ma come playmaker in sé, è molto, molto forte secondo me, quindi sicuramente dà molte soddisfazioni, in post André Drammond contro JJ Hickson, direi che JJ Hickson non ha speranze, a livello di chili, a livello di altezza, di tutto, quindi gli schiaccia in faccia, siamo sul 30-19 al momento, diciamo che stavano giocando abbastanza bene, praticamente stesso schema di prima, stessa fine di prima, stessa conclusione, con stavolta André Drammond che va a schiacciare, proprio difeso malissimo qua JJ Hickson, e niente da dire, questa partita al momento siamo sul più 13 abbastanza, li stiamo devastando al momento, esce Gallinari però che tira e segna, anche Gallinari magari l'anno prossimo potrei provarlo, vediamo un po' com'è, anche perché di solito gli italiani li bistrattano un po' a livello atletico, forse l'unico buono è il Beli, gli altri sono tutti un po' lenti, diciamo così, soprattutto da Tome e Gallinari, Gallinari è veramente molto lento, non dico che sia il più veloce della storia, però è veramente troppo lento secondo me da utilizzare, è troppo lento perché ha di meno attributi fisici, per un'ala piccola è scandaloso, secondo me. A questo momento comunque palla per Carl Anthony Towns, che fa saltare il difensore, prova ad andare dentro, la passa fuori, la ripassa a Drammond, che la ripassa a Will Barton, tiro da tre, è un bel giro palla comunque, non c'era possibilità che riuscissero a raggiungerlo, e in questo secondo quarto stiamo comunque dando una bella cinghiata alla partita, perché attenzione a Will Barton, Will Barton, mamma mia, schiacciata, momenti toccava la, con i piedi, non così tanto, però diciamo che, ha fatto stretching, perché fare quei impiegamenti in aria comunque, eh, devi essere bello caldo. Qua volendo c'era un taglio dentro per Andre Drammond, che ho visto adesso, ma è il potere dell'essere indifferita. Palla in post, Geoffrey Lovrenia non è un grandissimo difensore, ma comunque Larry Sanders sbaglia. Pickerall allora ha chiamato con Andre Drammond, per Tyler Ennis, che anche qua volendo poteva passarla, quindi preferisco comunque fare palleggiare se tiro, e segna, con il rilascio perfetto. Gary Harris allora troppo libero, viene marcato dal solito Stanley Johnson, come ho detto scorso episodio, qua non è un buon difensore, e comunque sarebbe il sesto uomo di questa squadra. Non riesce chiaramente a fermare Gary Harris, Gary Harris che ha fatto, posso dirlo già adesso, un'ottima partita, soprattutto per il giocatore che sta diventando anche nella vita reale dell'NBA, un buon giocatore, che ha fatto vedere grandi cose. Siamo al momento avanti di 15, e se non facevano fatica, attenzione qua, vabbè, comunque non facevano fatica con gli starter, non facevano fatica nemmeno con la panchina, Gary Harris lì ha fatto un'animazione di palleggiare sui tiro abbastanza bella. Comunque, va ancora, cioè, passaggio abbastanza facile, difesa praticamente inesistente dei Denver Nuggets per Larry Sanders, che va a schiacciare. Comunque, andiamo sull'intervallo con un battaggio abbastanza netto di 49 a 33, questi Denver Nuggets non stanno facendo una grandissima opposizione al nostro strapotere al momento, che diciamo che siamo una squadra abbastanza forte, comunque 68 a 14 è un record che porta di solito abbastanza bene. Stiamo tirando col 54%, 18 rimbalzi, 11 a 6 per gli assist, quello che però spicca di più, secondo me, sono le 6 stoppate a 0 che abbiamo fatto. Adesso, cominciamo subito bene, perché non difendono, questo è un passaggio che la CPU abusa di solito, di solito ne abusa, quindi per una volta che lo faccio io, nessun problema, e anche un'altra volta che lo rifaccio. Tanto drammo da notare, già 20 punti, e soprattutto, aveva già fatto qualche stoppata, perché eravamo già 6 a 0. Diciamo che abbiamo una difesa dell'area intanto più 20, abbiamo una difesa dell'area abbastanza invidiabile con Carl Anthony Towns e Drummond. Va ancora Ty Lawson che segna. Diciamo che Ty Lawson è un po' diverso da quello che, diciamo che è regiovanito, perché se non sbaglio, nella scorsa stagione, cioè nella prima che non vi ho fatto vedere, o forse sì, non mi ricordo, se non sbaglio aveva vinto Most Improved Player of the Year, ma non mi ricordo sicuramente. Va allora dentro Gary Harris, mamma mia, meno 18, ma comunque non demordono, Gary Harris almeno non demorde Gary Harris, stava giocando veramente bene, l'ho già detto una volta almeno, ma bisogna ridirlo, secondo me. Parla in post, Andre Drummond, in teoria contro Kenneth Farid, poteva andare senza problemi, allora si ripassa, la palla ritorna comunque in post, Carl Anthony Towns va a schiacciare. Andre Drummond, come ho già detto, è già a 20 punti, stava giocando veramente bene, in attacco non lo fermavano quasi mai, credo non avesse ancora sbagliato un tiro a questo momento della partita, palleggio, arresto e tiro di Carl Anthony Towns, non mi sentivo troppo in vena da tre punti, a tirare da tre punti questa partita, perché forse voi non lo sapete, ma una volta è capitato che, intanto qua, in balzo offensivo di Drummond, che porta al canestro, quasi da tre di Towns, una partita contro questi Nevernuggets, in stagione regolare, l'ho persa, di due, perché, in tutta la partita, nonostante facessi dei rilasci comunque buoni, tiratori liberi, così, uno su venti da tre punti, è finita la partita 78-76, che giocando 40 minuti, comunque abbastanza punteggio basso, però, sono particolari, quindi, diciamo che non ero proprio tentatissimo nel tirare da tre, ma comunque, se ero libero cercavo di farlo, esce ancora Gary Harris, che dopo il passaggio di, Hollis Jefferson, segna ancora, sta giocando veramente una partita abbastanza memorabile, per la sua carriera, così si può dire, Stanley Johnson con la tripla, siamo avanti di, vabbè, adesso erano 17, prima erano 21, comunque, siamo in un vantaggio abbastanza discreto, mancano 11 minuti al passaggio della serie, posto di, cioè, escludendo grandi rimonte, contando che il gancio in post, una volta imparato a farlo, è sempre il rilascio perfetto, in questo gioco, soprattutto, se poi difendi così, e lasci a Stanley Johnson, una pista da decollo, una pista da decollo, assolutamente, non puoi pensare di fare una rimonta, al momento, addirittura, sono arriate a meno 15, ma, la vedo abbastanza comunque dura, Carl Anthony Towns, in posto contro, Yusuf Nurkic, in realtà, ha difeso bene Nurkic, Cioè, comunque, poneva buon, cioè, si metteva contro, senza problemi, contro Carl Anthony Towns, palla che non la do, in posto da Carl Anthony Towns, prova a far avanzare lo schema, qua, rallenta un po' il giro tutto, tra l'altro, si è incastrato in un'animazione, comunque, si ritorna in posto da Carl Anthony Towns, ancora, rilascio perfetto sul semigancio, non so quanti ne sto facendo, in NBA, coso, cioè, se ci fosse, fai 10.000 rilasci perfetti, probabilmente, li avrei fatti solo di semigancio, perché mi trovo veramente troppo bene, e anche il suo rilascio è abbastanza buono, soprattutto dalla media, di nuovo più 20, a 7 minuti dalla fine, direi che è un vantaggio più che confortevole, prova ad andare dentro, non va dentro, ma comunque c'è Andre Drummond, che va a schiacciare per i 22 punti, non si è visto tanto in questa ripresa, se non in un paio di occasioni, comunque, qua la palla, per fortuna, ritorna nelle mali di Ty Lawson, siamo avanti di 22 al momento, siamo in un vantaggio sempre, come ho già detto, più che confortevole, però comunque cercavo anche di fare un po', di farmare statistiche, di riempire le statistiche, adesso non mi viene, qua il rilascio completamente, la barra del rilascio scompare, ma comunque segna lo stesso, Carl Anthony Towns, è ancora qua in post, riprova, questa volta sbaglia, perché non ha più articamente più energia, ma fa col fallo, and one col fallo, 91 a 65, direi che questi nuggets, se potevano essere quanto di meno difficili da abbattere, direi che lo stanno dimostrando, comunque Carl Anthony Towns on Fire, ha pure B da 3 punti, scusate se è passata un'ambulanza, proprio adesso, ma non posso farci niente, non posso gestire anche gli eventi estranei, alla mia casa, quindi posso limitare magari il gatto che mi agola, ma non posso evitare le ambulanze, o la chiesa che suona in lontananza, però comunque, a parte questa cosa qua, al momento, siamo sul più, è più 23, comunque, che diventa più 21, attenzione, a tre minuti dalla fine, la vedo dura, comunque, diciamo che il primo turno dei playoff, se si ha la prima testa di serie, e si ha una squadra con, praticamente in ogni posizione, un giocatore che ha 80, cioè in realtà, il giocatore più scarso ha 82, che è Tobias Harris, poi abbiamo, Will Barton 83, abbiamo Goran Dragic, 86, poi abbiamo, Underdramo 89, Carl Anthony Towns, che è diventato un 90, capisci che è difficile, fronteggiare una squadra del genere, dove poi, pure, il giocatore più scarso, che esce dalla panchina, è 74, e il giocatore più scarso, che esce dalla panchina, è, Luke Mbamute con 74, quindi, capisci che è così, qua intanto, questi ultimi secondi, io completamente ignoro del fatto, che avessi da tirare, comunque, ho lasciato scadere, i 4 secondi, come potete vedere qua, stavo facendo tutto, tranne che tirare, ne sono, ho completamente dimenticato, io ero talmente, vabbè dai, sì abbiamo vinto, 23, vabbè dai, levatevi dalla mia vista, ci siamo divorati, questi nuggets, oh oh oh, no niente evitabile, questa battuta, comunque, vittoria comunque, abbastanza facile, passaggio di turno, abbastanza facile, anch'esso, sta solo, bisogna solo vedere, chi affronteremo, nel prossimo turno, dei playoff, direi, se non sbaglio, siamo stati anche, la prima squadra in assoluto, dei playoff, a passare il turno, adesso quindi, resta solo vedere, il Jordan player of the game, che vedrete, nelle statistiche, messe a posto, ha fatto veramente, una partita leggendaria, quasi secondo me, comunque, Andre Drummond, 24, 11 e 3 assist, adesso vedrete, con le statistiche, messe a posto, Andre Drummond, 28, 14, 4 assist, 4 palle rubate, 5 stoppate, 0 palle perse, con 13 su 14, tiro dal campo, e 2 su 2 ai liberi, credo Anthony Stounds, vabbè ha giocato bene, ma non così tanto, Gary Harris, 28 punti, direi che ha giocato abbastanza bene, anche Gallinari, ha giocato comunque, abbastanza bene, non ha fatto niente di che, ma è stato abbastanza bravo, comunque, il prossimo turno del playoff, saremo contro, i Portland Terry Blazers, quindi, da me per oggi, un salutone, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! Il mondo sta cambiando, chi ora, ha la forza di omborsi, all'unione delle due torri, di omborsi, a me per oggi, a me per oggi, a me per oggi. Grazie a tutti.